Il palazzetto dello sport con tenso struttura di Piadena Drizzona si punta a riattivarlo per l'inizio del 2023 con una sorta di nuova vita già a partire da Natale. La minoranza aveva interrogato sul tema il comune di Piadena Drizzona risposto con un documento pubblicato all'albo pretorio nel quale si fa il punto sul palazzetto col tetto crollato al suolo a causa del fortissimo temporale dello scorso 4 luglio. Il documento affidi i lavori di smaltimento dei vari detriti alla ditta Edil Milani ma l'occasione col sindaco Matteo Guido Priori è buona anche per fare il punto della situazione. Appena sgomberato tutti i detriti ripartono e partono con la ricostruzione del palazzetto in poche parole. Lo farà la stessa ditta? No, la ditta saranno diverse dove il direttore dei lavori sarà l'architetto, l'ingegner Vanelli e quindi è lui che avrà sotto controllo tutte le ditte per la ricostruzione del palazzetto. Però il primo compito, il primo lavoro che verrà fatto sul palazzetto sarà il parquet. Il parquet perché è la prima cosa da mettere a posto in modo tale da poter disporre e dare la possibilità alle squadre sia di pallacanestro che di pallavolo di tornare dentro nel palazzetto. Come tempistiche se mi vengono dietro eccetera entro Natale è finito perché il parquet c'è bisogno di almeno una ventina di giorni per asciugare perché lo levigano e poi devono verniciarlo. Quindi ci vogliono una ventina di giorni però se mi fanno questo lavoro intorno al 20 di come si dice novembre considerando un mese arriviamo prima di Natale. Quindi per gennaio finalmente si può usare. Un'ultima domanda, come preventivo di spesa per la ricostruzione cosa stimate? Noi per preventivo di spesa siamo dentro i 210 mila euro in poche parole che sono poi i soldi che ci ha dato l'assicurazione.